Ok, ok, grazie a tutti, salutam! Oh, scusate, quando c'è cioppo pubblico io mi emoziono sempre. Allora iniziamo subito e vi racconto una barzelletta. Un signore anziano è seduto davanti a un televisore. Dopo un po' ci dice alla moglie Gli è che palle tutti i giorni fanno solo più programmi dove fanno vedere che vanno da mangiare e non ne posso più. La moglie si gira e ci dice Ah, Gennaro! Guarda che chi dì ho microonde! Grazie, grazie, ok, stop, basta. Dunque, ve ne racconto ancora una. Sempre stiamo in demo di vecchietti. Una coppia di anziani decide di festeggiare 50 anni di matrimonio nello stesso albergo e nella stessa camera in cui di consumarlo la loro prima notte. Appena è andata in camera, lei dice Gli è me sembra di essere tornata indietro in tuo tempo Gli è avevamo cenato nudi sul terrazzo al lume di candela Gli è che te ricordi? Dopo un po' ci dice Carmelo, lo rifacciamo, gli è dai Convinto un marito iniziano a cenare nudi e al lume di candela Dopo un po' lei incomincia ad agitarsi e ci dice Sendo la stessa passione ad un tempo le stesse emozioni Sì, ma lo sai che sento un caloso che mi sale proprio come allora Il marito è sconsolato la guarda e ci dice Guarda che hai le zinne in tuo brodo Bene, lo spettacolo vi è finito Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale Alimentos e mettete mi piace Se non vi è piaciuto iscrivetevi lo stesso al canale di Alimentos e mettete lo stesso mi piace Io perché le conviene Bene, saluto a tutti Ciao Ciao